Io rappresento un grande gruppo distributivo che ha numeri molto molto importanti, 6 milioni di clienti, 30 mila collaboratori tutti i giorni li accolgono nei nostri negozi, ma soprattutto in quanto grande azienda abbiamo grandi responsabilità. E indubbiamente nelle nostre strategie da molti anni queste responsabilità si sono concretizzate nel cercare una crescita sostenibile, sostenibile sul piano dell'ambiente, sostenibile sul piano del sociale, dei territori che accolgono le nostre attività. Quindi è normale avere una squadra come abbiamo noi che tutti gli anni cercano di sviluppare dei progetti, progetti di sostenibilità, cercano organizzazioni come Aisla che sono molto molto serie e determinate per verificare se possiamo in qualche modo dare una mano. In questo caso perché Aisla? Perché il progetto ci è piaciuto subito tantissimo, devo dire la verità, da un lato c'era una nostra sensibilità, perché poi molto spesso le cose nascono dalle persone, non ci sono dei codici prescritti. Quindi nel consiglio d'amministrazione per il sottoscritto SLA significa qualche cosa e questo già ha alzato le antenne. Poi il progetto concreto, pratico, utile, ci è sembrato immediatamente qualcosa da seguire con attenzione ed è stato quasi naturale, voglio dire, non abbiamo fatto tanta fatica ad innamorarci di quest'idea. Però avete fatto qualcosa di virtuoso perché comunque diventa un segno, un esempio, mi perdoni, per tutto quello che deve essere investito, voglio dire, perché chiaramente è importantissimo il vostro gesto, ma porta con sé comunque una determinazione nuova che un paese come l'Italia deve avere. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, in questo caso adesso sono diminuiti sicuramente tutti gli organi stampa, i giornalisti che stanno seguendo ancora Conte in questa visita così speciale e così significativa, anche per questo policlinico, sempre all'avanguardia, professor Sabatelli. E lei ormai ha visto un po' tutte le stagioni di questa malattia così difficile anche da raccontare per noi giornalisti. Vorrei anche una sua opinione personale, oltre che quella diciamo professionale, da studioso, da ricercatore, da persona in prima linea, che quando ogni volta la disturbiamo per avere delle informazioni preziose, lei è sempre pronto però a parlare dei pazienti, delle persone, perché questo è quello che davvero Conte, la dimensione umana alla fine, quello che restituisce secondo noi una grande possibilità all'Italia di essere all'avanguardia. Come disse all'inaugurazione del NEMO Alberto Fontana, lui come presidente della Fondazione Serena era contento che il NEMO nascesse nel patrimonio, ho usato queste parole, me le ricordo, di umanità e di cultura del Policlinico Gemelli. E' vero, questo NEMO funziona, la nostra assistenza funziona perché abbiamo dietro il patrimonio del Gemelli nel quale io sono nato e cresciuto. E a riguardo dell'aspetto umano, io pensavo di avere delle diapositive, ma non viene trasmesso di tutto. C'era la foto del caravaggio che è in San Luigi dei Francesi, è stupendo, ieri parlavo con Melissa, fatti una passeggiata, entri in una chiesa e vedi un caravaggio a Roma. Non so se si vede, questa è la vocazione di San Matteo, la vocazione di San Matteo a cui il Papa Francesco è particolarmente legato, tant'è che anche il suo motto episcopale è legato alla vocazione di San Matteo, lui ebbe la sorta di vocazione il giorno di San Matteo e ogni volta che veniva a Roma da vescovo andava a visitare San Matteo, è bellissimo. Lui dice che lì c'è un gioco di sguardi. Le sue parole, dice, è uno sguardo che ci porta su quello di Gesù, cioè bellissimo, Gesù che guarda, San Matteo che guarda, agli altri personaggi che guardano, il gioco degli sguardi, uno sguardo che mai si abbassa, mai ti umilia, ti invita ad alzarti, ti chiama a muoverti, ti chiama a vincere l'indifferenza. Sembrano cose, parole retoriche, l'indifferenza. La nostra senatrice Segre, quando parla della sua esperienza, quando fu deportata, non parla di quello che ha subito lì. La cosa che più la colpisce era l'indifferenza delle persone davanti alle leggi razziali. Questo per dire che la nostra azione nel nemo e sì è tecnologia, ma ripeto, mi ha anticipato il Presidente Conte e professionalità, ma mi piace pensare come a un gioco di sguardi, c'è anche la fotografia dopo delle nostre persone, sguardi nostri nei confronti della malattia, a non rassegnarsi, a non fermarsi davanti anche a una sofferenza a volte più grande di noi, ma anche il gioco degli sguardi delle persone, quando la malattia ti toglie la parola o quando la paura ti toglie la parola. È un gioco di sguardi anche questo, è un gioco di sguardi anche delle persone che assistono. Una volta mi disse, ho visto tutti i familiari delle persone con la malattia e hanno tutti lo stesso sguardo, spesso lo sguardo di chi si sente solo. Sicuramente mi piace pensare a tutto questo come a un gioco di sguardi e l'invito che ci fa il Papa e di avere quello sguardo che va oltre, che va diritto alla dignità. Parola il cui uso a volte ne fa perdere il significato. Dignità è che la parte, la nobiltà dell'uomo che gli deriva dall'essere uomo. Nobiltà, che la falsa nobiltà è quella dei titoli che si eredita. Noi la ereditiamo per chi crede in quanto è un'eredità che riceviamo in quanto figli di Dio e quale nobiltà più grande. Se lo sguardo va sulla nobiltà tutto il resto viene di conseguenza.